Non so a quanti di voi sia noto, ma il 27 gennaio di ogni anno si tiene la giornata della memoria dell'Olocausto e migliaia di eventi e attività si svolgono in tutto il mondo in questa data. Io, voi, noi dovremmo però chiederci cosa farà il mio comune per ricordare quel giorno? Potremmo inviare i più forti messaggi, quello per il quale la nostra comunità rifiuta l'odio in tutte le sue forme e ha una convinzione forte di duratura nell'uguaglianza innata di tutte le persone. Questa data dovrebbe farci ricordare che il nostro dovere collettivo è quello di sfidare l'odio ovunque lo vediamo, oppure dovremmo inevitabilmente affrontare le conseguenze del nostro silenzio collettivo. Nel più grande genocidio perpetrato nei confronti dei bei, la gente comune scelse infatti ignorare ciò che stava accadendo intorno a loro. Di essere spettatori. Questo ha permesso che il genocidio continuasse. Le persone comuni dovrebbero quindi svolgere un ruolo importante, quello di sfidare pubblicamente i pregiudizi.